Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. È mattina, presto, siamo in compagnia della mia Tesla Model 3 perché quest'oggi per lei è giornata, devo dire. La Model 3 è tra virgolette alcune piccole mancanze a cui bisogna sopperire. Ho comprato una serie di gadget super utili che andremo ad installare più tardi nella Tesla, vi farò vedere, faremo l'unboxing insieme e decideremo quale gadget ottenere o meno perché ne ho comprati svariati, quindi dobbiamo scegliere i migliori secondo noi. Ma adesso la sto portando in un centro per andare a fare i vetri oscurati perché la Model 3 di serie non ha nemmeno come optional i vetri oscurati, quindi andrò ad oscurare tutti questi vetri, compreso questo posteriore, perché così rendiamo la macchina intanto più sicura anche lato privacy e poi anche sicuramente un po' più accattivante. Non so se andrò ad oscurare anche i vetri anteriori, adesso lo scopriremo, ma credo proprio di sì con una gradazione super super leggera, però sicuramente il look migliorerà un botto. Cioè così è veramente inguardabile con i vetri non oscurati. Quindi saliamo in macchina, apriamo il garage se ci riesco e andiamo. Ciao! 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 Beh dai, è comodo comunque Comunque ragazzi, un po' la pausa Dall'installazione delle pellicole Chiaramente mi hanno chiuso per pranzo Tra poco ci torno Vediamo se il lavoro è stato concluso o meno Però sta venendo veramente figa Alla fine ho deciso di fare anche l'anteriore Con una gradazione chiaramente inferiore rispetto a quelle posteriori Però spero che la macchina renda meglio Ecco oggi c'è una giornata di merda La giornata è tipo questa Speriamo che renda lo stesso appena usciremo dal garage Allora raga, Marika sto facendo una reaction Arrivederci a quella di della macchina Che sono zarrissimi Mi piacciono molto queste cose Vai vai vai, apri Mi piacciono molto Oddio Ma quello dietro è totalmente oscurato Eh se sì Eh se sì Dimmi ne vedo Non ti vedo, zero bro Zero Pochissimo Certo bro, cos'è serie facciamo? Eh scelta a morire Quindi raga questo è l'effetto finale dei vetri oscurati Direi che tanta roba ci stava Adesso sono con la mia assistente Perché andiamo a mettere altri accessori all'interno della macchina E dobbiamo capire insieme quali E mi aiuterai anche tu Secondo mai Ok, la testa manca una cosa fondamentale nel bagagliaio Quando devo trasportare ad esempio sacchetti di spazzatura, sacchetti di plastico Anche ad esempio i sacchetti della spesa Ovvero un gancio Ecco che ho comprato su Amazon Questo gancio molto carino Che riesce a reggere in teoria fino a 20 kg Si spera E non so dove ma va messo tipo qua Guardate qui c'è un bullone È da quel che sova avvitato qui Esatto Cioè raga proprio una mancanza stupida Che abbiamo risolto con tipo 6 euro Bisogna girare Top Cioè raga guardate qui E possiamo attaccare i sacchi della spesa Oppure la spazzatura o altre cose Per non farlo andare in giro nel bagagliaio Che ogni volta è un deliro Cioè 5 euro Guardate che benessere Super top E super resistente Resistente anche perché è attaccato praticamente alla carrozzeria È meravigliosa questa cosa Marika È meravigliosa Che ha pensato questa cosa C'è una vite C'è una vite che esce E ci creiamo un gancio Facciamo una prova Brava Marika Tu sei che sei una youtuber Perfetto Perfettissimo Adesso mia cara Marika Abbiamo un'altra Anzi altre due modifiche da fare E per questo dobbiamo metterci all'interno della macchina Nella zona della consorcia centrale Quindi prendo i miei arnesi E vieni con me Marika Vieni 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 Raga Allora sono all'interno della macchina Questa macchina ha una mancanza pazzesca Nel senso Ok qui in questa zona Abbiamo i due slot per ricaricare wireless il telefono Tuttavia quando devi ricaricare in velocità e con estrema premura Devi aprire praticamente questo cassettino E qua in maniera super nascosta e nemmeno retroilluminate Guardate qui In questa zona 1 Qui e qui si vedono Guarda qui e qui Ok Marika si vedono dai Sono praticamente delle USB-C Ma super scomode da raggiungere in velocità Ed ecco il motivo per cui ho comprato ben due docking station Una sembra un po' più premium ma una un po' più di merda Sembra tipo cheap vs expensive Cos'altro vs economico Questa è molto carina perché Che ha sia l'USB-C sia l'iPhone come cavo direttamente che entrano e escono in automatico In più c'è un USB-C da 3A e un altro da 2.4A USB-A con un logo personalizzabile Carino E come lo metti? Ora ti faccio vedere E poi abbiamo quest'altro invece che è molto più carino Molto più snello secondo me Che ha addirittura dei LED che retroilluminano l'auto Carini perché quest'auto come sapete non ha retroilluminazione Quindi andiamolo ad unboxare rapidamente Vediamo qui cosa c'è all'interno Abbiamo ovviamente la docking station Ok Che dovrebbe essere Vi ho letto dalle recensioni Praticamente lo stesso colore della macchina Ed è praticamente uguale Sì molto simile Qui c'è un foro passacavi Quindi se vogliamo possiamo far passare i cavi Quando stiamo ricaricando il telefono Più due USB Più altre due USB-A Quindi in totale abbiamo quattro Cioè duplichiamo le porte Fighissima questa cosa Molto comoda E in più questi qua sono dei LED che si illuminano Ora andiamo a vedere come funziona Abbiamo chiaramente Prendono l'alimentazione da qui Guarda adesso io metto questo qui Così Poi metto quest'altro qui così Ah si attaccano a quelli? E si attaccano a quelli certo E tu non vedi praticamente niente Ora andiamo ad attaccare il primo USB qua Il secondo USB qua E poi ecco Visto che si sono accesi i LED già Carini 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 E praticamente andiamo a incastrare Questo qui così Ok Poi chiudiamo il nostro cassettino E voilà Dai guarda che top Che carino Sempre lo disegno Tra l'altro questo è un tasto touch E puoi cambiare anche i colori Poi in garage lo vediamo meglio Ma si vede Però questo mi garbo un sacco Guarda che figo Bellissimo Cioè posso dire Questo è il momento è quello che mi piace di più Anche se però Il problema cavi Si risolve in parte Perché ok tu li attacchi qui Ma devi avere sempre il cavo portato di mano Mentre in questo qui Mia cara Marica I cavi sono già integrati Nella docking station Vediamo quale ci garba di più E poi Ce lo teniamo Oh Eccoci qua Andiamo ad unboxare quest'altro Che è molto carino Uh Questo mi sembra molto molto più premium Guardate qui che Che cosa incredibile Abbiamo Sempre dello stesso colore della macchina Sempre un po' massiccio Perché qui abbiamo proprio un hub Tutto suo E c'è questo Praticamente abbiamo Retract extraction Vabbè ok Dobbiamo fare così E si tira E così Poi mettere il cavo dentro Questo è super comodo Posso dire Fighissimo Marica Qua c'è il display C'è la macchina C'è la macchina Mi diceva Your Logo però Infatti c'è scritto Nello scatolo Your Logo C'è scritto Your Logo bro Si Fammi togliere Fammi togliere Perché se c'è sta cosa Sta macchina così gargia Io non mi piace onestamente Infatti qua c'è scritto logo Andiamolo ad installare Quindi facciamo così Questo si rimuove In questa maniera Super semplice Uno e due Questo lo mettiamo da parte Quindi andiamo a mettere Questo nuovo Che si attacca sempre Nel medesimo modo Aspettino attacco lui Di così E così Ok Ma PD perché cosa sta? Uno Attaccato E due Le vado ad attaccare Ok E anche questo Fatto Allora questo è proprio Una cosa cinese Nel senso Non sembra di serie Della macchina Non sembra originale Dell'auto Però effettivamente Non c'è un display C'è semplicemente Quest'auto qui Che si illumina E non c'è modo di Ma c'è modo di Non c'è una pellicola No bro No bro Che schifo No bro Visto c'è scritto logo Aspettino Logo Semplicemente logo Non c'è niente Non posso mettere un mio logo Che fastidio Pensavo che io potessi mettere Il mio cazzo di logo È più comodo Esatto Perché fai così Ti prendi il tuo cavo Tra l'altro è lunghissimo Ti metti in carica il tuo telefono E via Anche dietro Mi serve un cavo Eccolo Poi è super comodo Perché lo ritrai così E lo metti qua Questo sicuramente è più comodo Ma sta roba così in super gargia Non mi piace No no Quello è molto più Quello è molto più premium Molto più Diciamo come se sembra Una cosa originale dell'auto Minimal Più minimal Perché una cosa che odio Di tutti i teslari che fanno Non so il motivo È che riempiono le auto Piene di accessori inutili Ma quelli che sto mettendo oggi Sono cose utili Mia cara marica Quindi questo Boh Mi triggera Posso dire Poi anche queste cose rosse Non lo so Allora ragazzi Io direi di Tenere questo Poi sarete voi nei commenti E consigliarmi Quale magari tenere Carino dai Facciamo decidere a loro Questo mi sembra molto più premium Soprattutto con le luci ambiente Che è una cosa che manca Effettivamente nell'auto Ed è una cosa che poi Posso scegliere Qui nemmeno posso scegliere il logo C'è sta macchina di merda Ma che colore Ma poi ci fosse il logo Tesla Sarebbe carino Ma manco quello Ma chi è una Tesla Ma fa schifo Una merda Lo tolgo Non mi piace Andiamo con l'ultimo accessorio Super Certo Pensavo No con l'ultimo accessorio super utile Un accessorio della Spigen Che non mi sta pagando Ma è un brand che è veramente A prezzo un botto Tra l'altro ho messo anche Il giorno dopo che ho comprato la macchina La pellicola opaca sullo schermo Che in realtà è un vetro opaco L'avevo già comprato Tipo ho fatto l'ordine alla macchina la notte Dopo 5 minuti ho comprato la pellicola Perché mi dava fastidio L'idea di avere le ditate Difatti io se facessi così Polizia schermo Cioè le ditate non rimangono E soprattutto Lo schermo opaco È molto molto più bello Secondo me Secondo i miei gusti Quindi ho messo anche la pellicola opaca Della Spigen Tra l'altro tutto con l'applicatore Molto molto figo Ho comprato questo organizer Per praticamente Organizer Organizer Per il bracciolo porto oggetti Dite voi che cosa significa Adesso vi faccio vedere Perché guarda qui Marika È un casino Quindi per organizzare bene il tutto Serve un prodotto Un gadget super utile Perché questo coso si è molto profondo Ragazzi Cioè ci entra veramente Non lo so Un bambino Un neonato Meglio non metterli Chiaramente i neonati là dentro Ci mancherebbe altro C'è il frank per quello Cos'è? Il bagaglio davanti Però ho comprato questo organizer Guardate che stile Tutto con fibra di carbonio Finta fibra di carbonio qui Qua tutto gommato Molto molto premium Si infila praticamente qua dentro E si va ad appoggiare così Boom Fatto è un cassettino Ma la cosa figa è che tu non perdi lo spazio sotto Ma lo sposti Quindi ad esempio Io la mucchina Queste monetine Banalmente Le chiavi Questo che mi serviva Posso mettere tipo Qua metto le monetine Qua metto la mucchina Qua metto Le chiavi Super super comodo Perché non si chiude più? Perché si chiude un po' meno Ma forse la chiave Che non lo fa chiudere Aspetta Oddio che anzi Vabbè Comunque Sicuramente un gadget Stupidissimo Ma veramente Molto molto comodo Ecco adesso devo vedere una cosa Ora devo mettere di nuovo Questo coso qui Darà fastidio O non darà fastidio? Quindi andiamo a spostare quello Andiamo ad incastrarlo di nuovo In questa maniera così Ok Andiamo a mettere i cavi Quindi un cavo qua E un cavo qua Ok Vediamo se questo dà fastidio No No Ok Chiudiamo Preciso Questo è molto bello Questo è super bro Poi apro qui Tac Tutto super organizzato Chiudo qui E che è fatto di serie Però il colore è perfetto Matcha del dio Matcha perfetto il colore È bellissimo Che direi signori Io direi che per questo video Posso essere tutto Queste erano le modifiche La mia Tesla La modifica più importante Sono stati i vetri oscurati Che sicuramente dovrò pulire Perché la macchina fa schifo E tutta zozza Ringrazio Marika Per avermi supportato Ringrazio il mio portafoglio Per aver comprato questi gadget Brande Se volete supportarmi Nella realizzazione di questi video Ci sono sempre Devo cambiare i cerchi Qualcuno me li può regalare Grazie E niente Ci vediamo con un prossimo video Di modifiche alla Tesla Magari la prossima volta Cambiamo i cerchi Raga In garage Guardate qui che bella luce Che fa sta roba Super top Bellissimo Guardate qui che bella lucetta Che fa Spare che spengono le luci Della macchina Mamma mia E che Ho aggiunto praticamente L'illuminazione dinamica Alla Tesla Con 10 euro Super figo Super approvato Questo gadget Mi piace Apprezzo tantissimo Grazie a tutti